Un gesto quanto mai significativo compiuto dai sindaci delle città dell'Agro, Sarnese e Nocerino. Tutti insieme i sindaci davanti ad un allestito albero di Natale all'interno del Palazzo di Vetro della cittadina di Corbara hanno espresso gli auguri ai loro cittadini a dimostrazione che la grande città dell'Agro è unita e che l'Agro è e dovrà essere, come lo è stato già nel passato, un solo unico territorio e popolo. Auguri voluti da tutti i sindaci che hanno voluto confermare la unità del territorio, un nuovo modo di concepire le attività amministrative che si dovranno, come sì, come già avviene, sviluppare in unità di intenti e di azione per rafforzare e difendere il territorio e il popolo dell'Agro. Buonasera da tutti i sindaci dell'Agro Nocerino Sarnese, a tutte le nostre comunità, con tutto il cuore un augurio. Buon Natale!